ciao a tutti sono venuto qui nel porticciolo di capo di monte sul lago di bolsena per testare la mia nuova 4 x 5 pollici diciamo 9 12 stenopeica realizzata da me con legno e che monta appunto questi chassis in questo caso della linoff tenuti in posizione con degli elastici diciamo un sistema molto molto semplice spero che funzioni bene e poi cercherò magari di postare risultati fa parte tutto questo appunto del mio nuovo o mio del mio progetto stenopeico non nuovo nel senso che tanti anni che ci sto sopra ma insomma sto cercando di dargli una come dire una stretta una chiusura da un certo punto di vista comunque vi terrò aggiornati anche sui risultati di questa nuova fotocamera a presto